AMGA e Marina di Casamicciola, il Consiglio Comunale dovrebbe fare chiarezza su queste due società. Arnaldo Ferrandino. Staremo a vedere perché sono curioso di comprendere lo stato dell'arte sia per quanto riguarda l'AMGA sia per quanto riguarda Marina di Casamicciola. Mi auguro che siano stati approvati i bilanci degli ultimi esercizi che non erano stati approvati di modo che riusciremo a comprendere bene l'impatto che hanno queste due società e quindi i conti di queste due società sul bilancio comunale. Però i licenziati di Marina di Casamicciola continuano ad addebitarti la loro sorte negativa? Perché in questo devo riconoscere che gli attuali amministratori sono bravissimi nel raccontare balle evidentemente hanno tempo da perdere e quindi raccontano balle e i dipendenti di Marina di Casamicciola vogliono credere perché fa piacere loro credere che le balle che raccontano gli amministratori siano verità. Di fatto sono stati gli amministratori a creare le condizioni per il loro licenziamento. Poi, se vogliono essere spiegati, io non ho nessuna difficoltà a spiegare a loro perché sono stati licenziati dagli attuali amministratori anche se il provvedimento l'ha fatto il commissario prefettizio. Perché gli attuali amministratori che mi avevano preceduto avevano creato tutte le premesse per la distruzione della società. Io ho cercato di farli ragionare, come dicevo anche con il part time, non sono riuscito a farmi ascoltare perché loro erano allettati dalle sirene di chi diceva non vi preoccupate, non sarete mai licenziati e come infatti sono stati licenziati. Però su Amca si prova a dare nuovi servizi, a rivedere la Tari? L'Amca si prova a dare nuovi servizi perché evidentemente si vuole fare delle assunzioni, secondo me. Però al momento è prematuro parlare di queste cose perché sono curioso di vedere come presenteranno i bilanci dell'Amca, come dimostreranno che questi servizi verranno svolti in modo egregio e quindi conseguentemente poi tutto quello che ne verrà sarà una conseguenza. Non è che per principio siamo contrati all'affidamento dei servizi all'Amca, anzi, noi siamo assolutamente favorevoli, soprattutto se l'Amca è una società sana e questo poi non pregiudica il lavoro invece di chi già lavora per l'Amca. Qualcuno mi dovrebbe spiegare, però se tutto va a gonfia e vela, per esempio perché i dipendenti di Marina di Casa Micciola sono alcuni mesi che non prendono lo stipendio.